Negli ultimi mesi l'abbiamo vista postare spesso video in cui balla in maniera incontrollata e quasi compulsiva e molti di noi avranno sicuramente pensato che non stesse bene. Oggi Britney Spears, con un lungo post su Instagram, ha rivelato perché balli senza sosta e qual è l'origine dei suoi disturbi. La cantante ha una malattia irreversibile ai nervi, contratta durante il suo ricovero forzato nel 2019, che le causa la paralisi al lato destro del corpo. Britney ha anche rivelato che non esiste una, cura, per il danno ai nervi, che causa dolore e intorpidimento. Aggiungendo poi tutto ciò influenza il suo sonno, ma che ha anche scoperto che ballare aiuta ad alleviare alcuni dei sintomi. Sto ballando. Sì, per i danni ai nervi sul lato destro del mio corpo. Non c'è cura tranne Dio, credo, ha commentato nella didascalia, nella sua maniera sempre un po' confusionaria di scrivere. I danni ai nervi sono causati a volte quando non si fornisce abbastanza ossigeno al cervello. Il cervello si spegne letteralmente. Blablabla vecchia storia, in quel posto non respiravo quando ero lì. Il danno ai nervi provoca l'insensibilità a parti del tuo corpo. La Spirsa ha rivelato che si sveglia, come tre volte a settimana a letto con le mie.